No, è una ripesa. Che fanno queste riunioni? E ora andiamo al Pozzo Sacro. E ora andiamo al Pozzo. Sono scesi queste con il Pozzo Sacro. E poi anche una sorgente d'acqua. E ora andiamo al Pozzo. E ora andiamo al Pozzo. E ora andiamo al Pozzo. Alla prossima. Grazie a tutti.